E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up With Iaia Rondi, io sono la vostra host, unica e inimitabile, Ilaria Rondinelli e benvenuti nel nonno episodio. Nuovi episodi, quando è successo? Non lo so. L'unica cosa che posso dirvi è che sono davvero davvero felice perché ho chiesto a voi stessi sui social, se mi seguite Instagram, TikTok, YouTube, io sono sempre sui social Iaia Rondi, su YouTube mi trovate come Ilaria Rondinelli con Keeping Up With Iaia Rondi. Ho chiesto a voi cosa ne pensavate del podcast e mi avete detto tutti, bellissimo, stupendo, non smettere mai di fare podcast, insomma ho avuto tutti i riscontri positivi e sono davvero felice perché quello che vi faccio sentire, quello che vi faccio sentire barra vedere, sono io al 100%, cioè io non cambio quando sono sui social, ve lo possono confermare i miei amici, io sono sempre la stessa, non cambio. Quindi sono felice perché significa che la mia persona, la mia personalità piace, vi piace e sono davvero contenta. Comunque, tornando a noi, se sapete e mi seguite, seguitemi mi raccomando, ho fatto un sondaggio su Instagram chiedendo a voi cosa volevate sentire nel nuovo episodio podcast e ha vinto, e ha vinto perché noi italiani siamo impiccioni, ma proprio da morire, io stessa voglio sapere sempre tutto, ovviamente nei limiti, però insomma siamo curiosi, siamo curiosi, è nella nostra proprio indole. e ha vinto nel sondaggio come hanno reagito i miei genitori quando appunto ho detto che mi sposavo con Dylan e che mi trasferivo negli Stati Uniti da un giorno all'altro, perché come sapete è successo tutto da un giorno all'altro. Ma cominciamo dal principio. Allora, io come sapete mi sono trasferita nel 2019 negli Stati Uniti come una ragazza alla pari. La mia idea, questa cosa ve l'avevo già detta nell'episodio passato, la mia idea era questa. Fare un anno come ragazza alla pari, quindi fare il mio annetto, migliorare il mio inglese, non volevo estendere, non avevo intenzione di estendere, perché come sapete quando fate l'aupere potete estendere anche un secondo anno. Non avevo intenzione di estendere. Ho detto vado lì, faccio un po' la mia esperienza, imparo meglio l'inglese e poi insomma torno in Italia e trovo lavoro in un'azienda, in una corporate che cercano persone che parlano inglese perché dicevo sai, alla fine dell'anno il mio inglese sarà abbastanza buono, parlo inglese, francese, spagnolo, italiano, madrelingua, insomma qualcosa troverò a Roma. Non è andata così, ovviamente. La mia vita prende sempre strade completamente diverse. Ormai sono abituata, mi succedono sempre cose random che praticamente da un giorno all'altro cambiano la mia vita, proprio drasticamente, ma vabbè. Quindi cosa succede? Come sapete io ho conosciuto mio marito Dylan che è un ragazzo americano, quando facevo la ragazza alla pari, poi da lì c'è stata tutta la relazione a distanza. Ci siamo visti, avanti e indietro, missioni, deployments, io che c'era il travel bene perché c'era il covid, non so se voi ricordate il covid, l'America era chiusa, proprio put, caput. E niente, io ho dovuto fare due volte, due volte, la quarantena in Turchia per 15 giorni per entrare negli Stati Uniti. All'inizio perché dovevo fare delle pratiche per il college, poi è la seconda volta che dovevo vedere il mio attuale marito. Mannaggia, quello è stato un periodo abbastanza particolare della mia vita. Non vi dico ai miei genitori proprio quanto erano contenti che me ne sono dovuta andare due volte per 15 giorni ad Istanbul, però insomma io viaggio tanto, sono abituata, i miei genitori mi conoscono, io sono molto intraprendente, io voglio fare sempre mille cose, io prendo parto, dico, sono sempre stata così fin da piccola. Mia madre mi diceva sempre, quando eri piccola, tu manco te volevi far fare bidet da me, tu pure il bidet te volevi far da sola, hai cominciato piccolissima, sempre poi facevi tutto, te buttavi tuffi, cavallo. Dice, mia madre mi ha sempre detto, ti mancava solo il brevetto della paracadutista, poi hai fatte tutte, io sono sempre stata così, molto intraprendente, molto, sempre ho voglia di fare, di dire, chiacchiero un sacco, parlo con tutti, io sono così, questa è la mia personalità, sono un gemelli, noi gemelli siamo così, siamo i migliori, ovviamente. Ma comunque, bando alle ciance, dove eravamo arrivati? Ah, ok, quindi mi sposo con Dylan, mi sposo con Dylan, ma, come sapete, non era una cosa programmata. Io non sapevo che, andando in America, quell'ultima volta, dopo aver fatto la quarantena in Turchia, perché ho fatto la quarantena, sì, ho dovuto arrivare, io non sapevo che mi sarei sposata con Dylan, quindi, è stato tutto una sorpresa anche per me, quindi, immaginatevi i miei genitori, cioè, allora, la cosa è andata così, Dylan mi fa questa proposta di matrimonio nella nostra stanza, mi fa la proposta di matrimonio, e, molto non romantica, poi, insomma, se mi seguite sui social, avete visto che lui poi mi ha fatto, perché sapeva quanto ci tenessi, quanto volevo, il video, la foto, lui che si inginocchiava, cioè, l'ha fatto, ovviamente, ero seduta sul letto, lui si è messo in ginocchio, praticamente, io seduta così, e lui, alla fine del letto, in ginocchio. È stato romantico, perché è stato bellissimo, eravamo soltanto io e lui, però, volevo video, volevo fare, cioè, quelli sono ricordi che ti devi tenere tutta la vita, non si tratta di, non pensate, ah no, tu lo volevi pubblicare sui social, sì, ma quella è proprio una delle ultime ragioni, anche perché, comunque, io sono una content creator, io lavoro con i social, quindi, ci sta che, comunque, uno vuole creare contenuti, questi contenuti sono belli, piacciono, cioè, chi è che non piace? Cioè, vedi, la proposta è matrimonio, però, era proprio perché volevo un ricordo, volevo, sai, sono sempre belli i ricordi, a me piacciono le foto, i video, a me mi piacciono, poi fate voi. E niente, ragazzi, quindi, praticamente, mi fa questa proposta e decidiamo di sposarci. Da una notte, da un giorno alla notte, cioè, da notte al giorno, noi ci dovevamo sposare. Il problema è che, come sapete, vi avevo raccontato nell'episodio, mi sembra due episodi fa, io stavo con l'esta, ero con il visto, non è un visto, è, insomma, quello che utilizzate per viaggiare tre mesi negli Stati Uniti. Quindi, soltanto viaggiare, non potete lavorare nulla, in teoria, non vi potete manco sposare, ma questa cosa ve l'ho già spiegata nell'episodio, riguardatevelo. E niente, quindi, dice, che facciamo, che non facciamo, sposiamoci. Perché poi, comunque, la cosa è nata più perché, sì, io ti amo, anche io ti amo, ma non ti voglio lasciare di nuovo, perché noi, comunque, eravamo usciti da due missioni. Dylan era andato in missione sei mesi, poi era tornato manco il tempo, un mese è ritornato. Vi ricordate, io sono andata negli Stati Uniti, dovevo stare tre mesi, ma Dylan è ripartito ed è lì che io sono andata in Virginia, dalla famiglia, quindi ho conosciuto la famiglia di Dylan senza di lui. Abbastanza awkward, un pochino strana come cosa, però è andato tutto bene, è andato tutto bene. Quindi, noi eravamo usciti da una situazione del tipo, io ti amo, tu mi ami, voglio stare con te, non mi voglio allontanare di nuovo, cioè, noi, capite bene che la situazione era un pochino diversa, perché comunque mio marito è nei militari e, ripeto, era andato in missione proprio nell'arco di un anno, è andato sei mesi, è tornato un mese, è riandato sette mesi. Anche perché poi, quando voi vi sposate con un militare negli Stati Uniti, avete più vantaggi, nel senso, anche quando ti sposi con tuo marito e tuo marito va in missione per sei mesi, praticamente non solo loro ricevono più soldi quando sono sulla nave, in questo caso, perché mio marito è nevi, ma prendi dei soldi dal governo che si chiama, oddio, ne abbiamo parlato l'altra sera con gli altri nostri amici, separation, una cosa del genere, prendi di danno dei soldi quando ti separi da tuo marito, perché lui va in missione, quindi sono buoni soldi, da quello ho capito, a me non mi è mai successo, perché quando Dylan è andato in missione, ancora noi eravamo sposati, questa è la gioia, le fortune della mia vita, capito? Non solo il danno, pure la beffa, quindi non solo che sono stata male, i pianti disperati per sette mesi, tramite mail, tutti i giorni, una mail al giorno, e sono arrivata alla mail, erano il pianto disperato, cioè mia madre la serie non mi sopportava più, la serie la senti, vai in Turchia, non lo so, fai qualcosa, ma vai in America da Dylan, perché io non ti posso vedere così, cioè io ero proprio completamente depressa, cioè io volevo stare con Dylan, volevo vederlo, volevo toccarlo, cioè ero innamorata, cioè sono innamorata, ma a quel tempo proprio ero innamorata. E niente, quindi praticamente ci vogliamo sposare, ci vogliamo sposare, scusate ogni tanto io mi perdo perché parlo troppo, ci vogliamo sposare e nessuno della mia famiglia sapeva nulla, cioè i miei genitori sapevano che andavo a trovare Dylan, sapevano che avevo l'esta, sapevano che avevo il biglietto di ritorno, perché io ho perso pure i soldi, un sacco di soldi di biglietto di ritorno, non mi hanno mai ovviamente rimborsato, e io dovevo tornare. Vi dico la verità, io non sapevo come dirlo ai miei genitori, perché, cioè, come lo dici ad un genitore, soprattutto noi, noi italiani, la maggior parte di noi italiani, abbiamo quel rapporto profondo con mamma e papà, con la famiglia in generale, ma soprattutto con mamma e papà, cioè l'amore che abbiamo noi figli, verso i nostri genitori, noi figli italiani, che comunque è una cosa che ho notato, che è molto molto diversa qui negli Stati Uniti, non che i ragazzi e le ragazze americane non amano i loro genitori, è che noi siamo un pochino più, non voglio dire morbosi, però siamo più, la famiglia per noi è tutto, cioè per noi italiani, mamma e papà, la famiglia, è tutto, è la prima cosa che viene, e io ho sempre avuto un rapporto, sempre ho avuto un rapporto bellissimo con mia madre e mio padre, non sono mai stati genitori opprimenti, mi hanno sempre lasciato a me e mio fratello, perché io ho un fratello più grande, ci hanno sempre lasciato fare tutto quello che volevamo, a livello di sport, esperienze, mio fratello è andato in Inghilterra, io ho fatto viaggi di qua e di là, sono stata in Francia, sono stata in Inghilterra, cioè, non sono mai stati genitori restrittivi, anche perché comunque non abbiamo mai dato ragione ai nostri genitori, né io né mio fratello, vuol dire, tu sei dentro casa, tu sei segregato, perché, perché, che cavolo ne so, esci, tu ubriachi, sei sempre ubriaco, esci, utilizzi droghe, noi non siamo mai stati così, cioè, io non ho mai bevuto vita mia, al massimo che facevo un goccetto, già stavo ubriaca, mio fratello, idem, non abbiamo mai fumato, cioè, io per un periodo ho avuto il bizzietto del fumo, però per dirvi i miei genitori, mio fratello, mai fumato, insomma, sai, quelle famiglie normali, una famiglia normalissima, non che le persone che fumano sono sbagliate, assolutamente, perché fumavo pure io l'Aigos, quando stavo a Roma, a Stecchetta, però, quelle famiglie normali, una famiglia normalissima, e, comunque, mio fratello, anche laureato, si è sempre avuto, lui ha un gruppo anche musicale, suona la chitarra, quindi ha sempre avuto un sacco di interessi, anch'io, tanti, tanti interessi, questo anche grazie ai nostri genitori, perché ci hanno sempre sostenuto, ehm, qualsiasi cosa, cioè, io volevo provare, ho provato di tutto, qualsiasi sport, mi avevo già detto, ho fatto di tutto, tutto, mi mancava solo, veramente, paracadute, eh, perché, per i nostri genitori, è sempre stata una cosa fondamentale, darci la libertà, farci provare tutto, e, quindi niente, eh, non sapevo come dirlo ai miei genitori, perché comunque, eh, eh, siamo mio fratello io, io sono la, la bimba di casa, cioè, io sono la, la femminuccia di casa, mio papà soprattutto, e, se mi, se mi capita che piango, se comincio a piangere, mi emoziono, poi non ci fate caso, perché è normale, ok, questo è normalissimo per me, soprattutto quando parlo di queste cose, e, e quindi non sapevo, non sapevo come dirlo ai miei genitori, cioè, cosa dico, senti, non torno, mi sposo, non torno, mi sposo, quindi, mi sposo con l'esta, non posso far avanti e indietro, finché non mi arriva la green card, o il permesso di viaggio, devo rimanere qua in America, quindi per un po', io non torno in Italia, cioè, come lo dice un genitore, nonostante io, comunque, quando e Dylan ci siamo sposati, ci siamo sposati nel 2021, comunque, cioè, io ho 30 anni, non è che sono una ragazzina, però, comunque, io ho sempre vissuto con i miei genitori, cioè, i miei genitori sono sempre, stati tutto, cioè, la mia vita, mio fratello, il mio cane, cioè, in quel momento, ho detto, mi sono trovata in quella situazione, in cui dici, amo Dylan, perché amo l'uomo che ho davanti, voglio sposarmi con Dylan, ma non so se a come lo voglio, perché purtroppo, quando vi trovate in situazioni del genere, quando avete una relazione a distanza, o soprattutto quando siete fidanzati, con un ragazzo americano, o comunque ragazzi, che vivono fuori dall'Italia, purtroppo, questa cosa ve l'avevo detta anche nell'episodio passato, il matrimonio, è l'unica cosa che potete fare per stare insieme, la diciamo, la cosa più semplice, soprattutto negli Stati Uniti, più semplice e più veloce, è sposarsi, e nella vita, soprattutto io, cresci con l'idea, che sai, trovi il principio azzurro, ti fa la proposta, prima di farti la proposta, va da papà, chiede al papà il permesso, ed è quello che voleva fare Dylan, e Dylan me l'ha sempre detto, noi già parlavamo di matrimonio, ma lui me l'aveva sempre detto, io non ti voglio sposare, fino a quando non vado da tuo papà, a chiederti, a chiedere la tua mano, praticamente, perché lui voleva farlo, sapeva anche, gli avevo detto, sai, comunque in Italia è una cosa apprezzata, cioè carino, e lui lo voleva fare, il problema è che eravamo troppo innamorati, cioè sia io che lui, non volevamo separarci, quindi ti ritrovi in questa situazione, in cui dici, voglio stare con Dylan, voglio sposarmi con Dylan, ma allo stesso tempo, non so se sono pronta a lasciare tutto, perché comunque nel momento in cui voi decidete di sposarvi, e state soprattutto con un militare americano, che lavora negli Stati Uniti, e non può lasciare il territorio americano, perché lui ha ordini negli Stati Uniti, e lì la decisione è presa, cioè tu ti sposi, devi vivere negli Stati Uniti, non torni più in Italia, almeno per un po', poi in un futuro, chi lo sa, si vedrà, ma la decisione era stata presa, quindi, io poi sono una persona molto, cioè non penso alle cose, io mi butto, un pochino troppo forse, e non vi sto dicendo che mi sono, come si dice, non mi viene il termine in italiano, che ci ho ripensato, ecco, non vi sto dicendo questo, scusate ogni tanto parlando sempre inglese, io le parole in italiano, ogni tanto vanno via proprio, scompaiono dal mio cervelletto, non, cioè, vi dico che questa cosa la rifarei altre mille volte, perché io amo Dylan, però sapete, io prima di tutto non amo vivere negli Stati Uniti, e non è il posto in cui voglio vivere per tutta la vita, per svariate ragioni, di cui vi parlo sempre sui social, su TikTok, su Instagram, a partire da, l'assistenza sanitaria, mollevate che io ho l'assistenza sanitaria, perché mio marito è un militare, ma, anche soltanto, e quella penso sia una delle ragioni più grandi, far crescere i miei figli, in questa realtà, preferisco, centomila volte, per quanti problemi possiamo avere in Italia, preferisco l'Italia, ma quello è un altro discorso, però io ero innamorata, cioè sono innamorata, il tempo ero innamoratissima, innamoratissima anche adesso, Dylan è innamoratissimo, e abbiamo deciso quindi di sposarci, avevo paura quindi a dirlo ai miei genitori, la primissima persona a cui lo dico, è mio fratello, scrivo a mio fratello, e dico, senti, ti devo chiamare, perché ti devo dire una cosa, non so come parlarne con mamma e papà, cioè mi devi aiutare, io e mio fratello abbiamo un rapporto, mio fratello nonostante sia il maschio più grande di me, non è mai stato geloso di me, non è mai stato quel tipo di fratello, no tu quell'uomo non lo vedi, no quello tu non lo frequenti, no ma chi ha questo, no te ti ammazzo, no, cioè il mio fratello abbiamo sempre avuto una relazione, molto sana, anche perché io e mio fratello siamo veramente due poli opposti, cioè a livello di personalità, a livello di cosa ci piace, non ci piace, mio fratello è stra intelligente, mio fratello è bravissimo, mio fratello è un ingegnere di ILE, vi dico solo questo, ha vinto un concorso alle ferrovie dello Stato, cioè mio fratello è un cervellone, 3000 lauree, master, eccetera, eccetera, io sono una capra in matematica, proprio c'è, ragazzi io ancora conto quelle dita, cioè siamo proprio con questi livelli, mi ricordo che mi aiutava sempre, quando dovevo fare i compiti in matematica, non ce ne capivo niente, e io sono più brava nelle materie umanistiche, sai, ti scrivo un bel tema, ti scrivo un bel libro, sono brava a parlare nella storia, avevo un'ovia storia, mi piaceva la storia, mi piaceva, ma io matematica, roba, te, non è proprio per me, quindi, siamo sempre avuto un rapporto molto molto salutare, un rapporto sano, mi sembra due o forse una settimana prima, noi avevamo già preso appuntamento per sposarci, è venuto un signore a sposarci dentro la cucina, perché sapete, io e Dylan ci siamo, abbiamo firmato le carte in cucina, molto romantico, scrivo a mio fratello e dico, senti, io ti devo chiamare, ti devo dire una cosa, cioè, tu mi devi aiutare, che è successo, non è successo, di qua di là, chiamo mio fratello, e mio fratello, diciamo, ripeto, comunque mio fratello mi fa, ila, se ha quello che vuoi, se ti fa felice, fallo, non so come ne parlerai con mamma e papà, nel senso, sai, come sono, probabilmente non la prenderanno molto molto bene, soprattutto a papà, e mi fa, però se ti rende felice, fallo, vabbè dai, adesso ci penso, chiamo anche noi a mia cugina, una cugina di giù della Sicilia, con cui diciamo, un rapporto stretto, e la chiamo, e le dico anche la stessa cosa, dico, senti, perché poi lei conosce i miei genitori, lei è la figlia della sorella di mia mamma, mi faccio, come glielo dico, cioè, che faccio, mi fa, te, la verità, nel senso, se è una cosa che sei sicura al 100%, se sai comunque quali saranno le conseguenze, nel momento in cui prendi questa decisione, insomma, fallo, dico che, soprattutto mio papà, perché mia mamma è sempre stata quella che mi ha sostenuto in qualsiasi decisione, cioè nel senso, è lei che, quando io ho deciso di andare a fare la ragazza alla pari, mia mamma è stata quella che, dai, sì, che bello, vai, quella sarà un'esperienza fantastica, eh, vai, sì, sì, io sono d'accordo, mio papà era quello, ma no, ma è un'America, ma che baffan America, poi mio padre non ha un grande amore per l'America, l'America è un paese capitalista, consumista, si mangia di cacca, quello è mio padre, proprio, se vuoi parlare a mio padre, quelle sono le prime cose che vi dice sull'America, ma perché in America, ma vai in Inghilterra, ma vai a parlare l'inglese in Inghilterra, sei più vicina, di qua, di là, so, so, so la coca di papà, cioè, so la femminuccia, si sa, e decido di chiamare mia mamma, chiamo prima mia mamma, dico, senti, ma, eh, ti do di una cosa, io e Dylan abbiamo deciso di sposarci, sposarci, ma che dici, no, assolutamente, i miei genitori non erano d'accordo all'inizio, soprattutto mio padre, ma stai scherzando, sposarti, ma tu sai cosa significa sposarsi, comunque, io sono cresciuta in una famiglia, i miei genitori sono spostati da praticamente quasi 40 anni, e, cioè, io sono cresciuta in una famiglia in cui, mia mamma e mio papà mi hanno insegnato che il matrimonio è una cosa seria, non so, poi, mia mamma soprattutto è molto religiosa, io da piccolina ho sempre fatto il catechismo, ho fatto la chirichetta, partecipavo sempre, insomma, anch'io sono molto religiosa, e mia madre mi ha sempre detto, eh, ma tu lo sai, il matrimonio è un passo importante, il matrimonio deve essere, la decisione deve essere presa da una persona che ami davvero, non puoi fare tutto così a fretta, insomma, le mie decisioni non erano d'accordo all'inizio, eh, ma tu stai scherzando, sposarti, ma tu sai cosa significa, mio papà era più no che sì, vi devo dire la verità, e la chiamata è finita così, la chiamata è finita così, il mio genio mi ha detto, non ci pensa proprio, no, fatto sta che mi ricordo che chiamai mio fratello piangendo, dicendogli, Giallo, perché mi prego si chiama Gianluca, Giallo, io amo Dylan, non so cosa fare, mamma e papà non sono d'accordo con questa mia scelta, sai comunque il rapporto che ho con mamma e papà, perché ripeto, io ho un rapporto bellissimo con i miei genitori, e li capisco anche, cioè, come fai a dargli torto, la figlia che da un momento all'altro, cioè, non hanno, cioè, la cosa, la cosa importante in tutto questo, che la sottolineo, perché ci sono persone che magari non mi seguono, i miei genitori non avevano mai conosciuto Dylan dal vivo, e soprattutto, a parte qualche videochiamata qua e là, i miei genitori non parlano inglese, e Dylan non parla italiano, quindi, a meno che io non facevo da tramite, i miei genitori non sapevano nemmeno chi fosse questo ragazzo, cioè, come fate a dargli torto? Io mi metto nei panni dei miei genitori, ci sta, cioè, mia figlia, che va in America dall'altra parte del mondo, con un uomo che io non so manco chi sia, mai conosciuto, ci avrò scambiato due volte, due parole tramite la videochiamata, ma chi è? E ci sta, raga, cioè, ci sta, io non ho mai detto ai miei genitori, no, tu stai facendo, tu stai dicendo una cosa sbagliata, assolutamente no, perché io mi sono subito resa conto, che comunque era una situazione abbastanza complicata, e mio fratello, quindi dico mio fratello, mi metto a piangere, dico, sai, questa è la situazione, mio fratello mi fa, io capisco te, ma capisco anche mamma e papà, cioè, capisci bene che loro non sanno nemmeno chi è Dylan, non l'hanno mai visto, non ci hanno praticamente mai parlato, e io, sai, ho detto no, perché comunque Dylan avrebbe voluto chiedere, la mano a papà, però purtroppo, sai, lui è andato in missione, di qua di là abbiamo una relazione un pochino diversa, dalle relazioni normali, anche se voi avete una relazione con un ragazzo straniero, quando siete sposati o fidanzate con un militare, la situazione è molto molto diversa, è più complicata, perché questi prendono, partano, vanno in deployment, poi non si sa se tornano dopo sette mesi, poi forse tornano dopo otto, poi magari stanno dieci, cioè è tutto possibile pure che Dylan lo chiamavano per andare in missione per una terza volta, cioè non sai mai cosa succede nella tua vita, chiedete a tutte le ragazze militari, cioè non si possono fare i piani, perché vengono sempre, sempre, sempre sconvolti da, no, mi hanno chiamato per fare un detachment, no, devo rimanere a lavorare, no, devo andare in missione, cioè, da un momento all'altro cambia tutto, quindi capite bene che, diciamo che noi siamo stati quasi costretti, e non che noi non volevamo sposarci, assolutamente, ripeto, io una cosa che farei, rifarei altre miliardi di volte, cioè io sono strafelice di essermi sposata con Dylan, però magari l'avremmo fatto in maniera diversa, soprattutto Dylan voleva appunto farsi conoscere dai miei genitori, quindi andare in Italia, e quindi niente, ti piango al telefono a mio fratello, quindi che faccio che non faccio, e mio fratello mi dice, Ila, io provo a parlarci, tu magari riprova, se sei innamorata, cioè io ti sento, sei innamorata, se è per la tua decisione, insomma, fallo, quindi, alla fine, diciamo, ho richiamato i miei genitori, mi sembra un giorno dopo, e ho detto, sentite, io capisco il vostro punto di vista, capisco tutto, però, io sono innamorata di Dylan, e io e Dylan vogliamo stare insieme, avrebbe voluto venire in Italia, chiedere la mano a papà, purtroppo non c'è stata l'occasione, verremo in Italia, perché poi noi ci siamo sposati, ottobre 2021, gennaio 2022, siamo andati in Italia, perché comunque, giustamente, pure i miei volevano conoscere Dylan, io volevo far conoscere Dylan, i miei genitori, e, capisco tutto, però, io e Dylan vogliamo stare insieme, e Dylan ci vogliamo sposare, sono sicura di questa scelta, sono innamorata di Dylan, voglio stare con lui, e quindi poi lì, la situazione è un pochino cambiata, ho parlato anche con il mio papà, e lui appunto, cioè, lui non è che ha, cioè, non è stato proprio un sì, anche perché comunque, ripeto, io sono grande e vaccinata, non ho bisogno del consenso dei miei genitori, è ovvio che però, quando voi avete un rapporto, profondo, e un rapporto, siete molto legati ai vostri genitori, è ovvio che, vi dispiace, se i vostri genitori non sono d'accordo, magari non gli piace molto, quello che state facendo, o la decisione che avete preso, ripeto, perché questo è il mio rapporto con i miei genitori, quindi, sì, ero felice, il giorno in cui Dylan abbiamo firmato le carte, ma ho sempre avuto, un po' quel magone, di dire, porca miseria, mi sto sposando, i miei non sono proprio strafelici, e ripeto, non perché non erano felici, che io avessi trovato, perché comunque Dylan, adesso siamo sposati al 2021, Dylan è un ragazzo bravissimo, Dylan mi ama, Dylan mi rispetta, soprattutto, è importantissimo, Dylan mi rispetta, e io non avrei mai potuto trovare un ragazzo più bravo di Dylan, cioè, io sono strafelice della scelta che ho fatto, ho trovato veramente un uomo, che ne vale la pena, cioè, Dylan è il mio mondo, è tutto, quindi, non vi dico che loro non erano felici, erano semplicemente, perché Ilaria, da quel momento in poi, non sarebbe tornata in Italia, e sarebbe rimasta in America, cioè, per un genitore, è difficile, cioè, è difficile accettare una cosa del genere, quindi, quindi, che vi dico, adesso, ovviamente, sono contenti, tutto quanto, però, non, non vi dirò mai, che i miei genitori sono felici, che io vivo così lontana, assolutamente no, cioè, mia mamma, ogni volta che facciamo, che ci chiamiamo, ma senti, ma allora, ma avete deciso, se venite a vivere in Italia, è difficile, soprattutto, perché, e noi comunque, prima o poi diventeremo una famiglia, o Dylan avremo dei figli, e, io voglio, che i miei genitori, siano presenti, nella vita dei miei figli, come nonno e nonna, cioè, anche perché, mio fratello, comunque, è più grande di me, ma mio fratello, per adesso, non ha una relazione, quindi, non penso avrà figli, sicuramente avrò figli, prima io che lui, e i miei genitori, comunque, stanno cominciando ad avere una certa età, si avvicinano, ai 70, quindi, capite bene, che, cioè, io, voglio, che i miei genitori, facciano parte, della vita dei miei figli, che siano, nonno e nonna, che insegnano ai miei figli, la cultura italiana, il cibo italiano, l'amore della famiglia italiana, l'affetto, cioè, quello che mi hanno dato, fin da quando ero piccolina, non piango, non piangerò, scusate, momento piatto, e, cioè, l'amore che mi hanno dato i miei genitori, è un amore incondizionato, soprattutto, quando hai quel tipo di amore, da parte dei tuoi genitori, perché, comunque, i tuoi genitori, tua mamma, tuo papà, ti hanno messo al mondo, e io lo sapete, ve lo dico sempre, i figli sono lo specchio dei genitori, e io non potevo che venire così, non che io sia la donna perfetta, la ragazza perfetta, però io mi reputo una ragazza, intelligente, istruita, so stare al mondo, e questo lo devo soltanto ai miei genitori, cioè, come mi hanno educata, come mi hanno cresciuta, quindi, cioè, io voglio, io proprio, ho quella voglia, quell'amore, voglio che i miei figli possano, anche solo per un breve periodo, anche solo, sai, quando crescono, cioè, voglio che, che abbiano quell'amore, che vi venga trasmesso l'amore, che ho avuto io da piccolina, e che, comunque, non solo da piccolina, ma anche quando sono cresciuta, cioè, l'amore dei miei genitori, lo sento ancora oggi, nonostante io abbia 30 anni, cioè, l'amore per i miei genitori, non passerà mai, cioè, ripeto, per loro sono la mia vita, e, e quindi è difficile, perché so, che adesso come adesso, vivendo qui negli Stati Uniti, è una cosa molto, eh, difficile, soprattutto, se Dylan continua, a rimanere nei militari, continua ad avere ordini negli Stati Uniti, mi rendo conto, che magari, trasferirsi in Italia, eh, potrebbe succedere, ma, più là, e so, che magari, io e Dylan avremo dei figli molto presto, e voglio che i miei genitori siano presenti, i miei genitori saranno presenti, quando magari partorirò, quando sarò incinta, perché comunque cercherò, magari, i primi mesi di andare io, non sono incinta, vi sto parlando di un futuro, e poi loro venire, eh, magari, cercare di fargli prendere un visto, non solo l'esta, che può stare tre mesi, magari fargli prendere un visto, un pochino più lungo, e farli stare qui, anche, sai, dopo il parto, avere la mamma vicino, è importante, perché, vuoi o non vuoi, per quanto, diciamo, io rispetto, la famiglia di mio marito, la famiglia di mio marito, non è la mia famiglia, perché, prima di tutto, non è la famiglia italiana, e ritorniamo sempre allo stesso punto, ripeto, io rispetto, ma, eh, mio marito, non ha il rapporto che ho io, con i miei genitori, i suoi genitori, non sono i miei genitori, eh, i suoi genitori sono separati, il papà, non è più nella cornice, la madre, purtroppo, ha tanti problemi, e, non è mai stata molto brava a fare la mamma, insomma, cose che non vi sto qua a raccontare, perché, ripeto, io rispetto completamente la famiglia di mio marito, però, l'amore che ho avuto, e che ho ancora adesso, l'amore, il supporto che ho avuto, che ho sempre avuto, e ho ancora adesso dai miei genitori, non me lo darà mai nessuno, purtroppo, non lo potrò, non potrò avere lo stesso amore, lo stesso rispetto, eh, scusatemi, lo stesso amore, e lo stesso supporto che ho, eh, da parte dei miei genitori, dalla parte della famiglia di mio marito, quindi io, voglio, desidero, che i miei genitori ci siano, eh, in un futuro, quando, insomma, sarò mamma, e avranno dei nipotini, quindi, eh, cosa dirvi, vediamo a quanto siamo arrivati, siamo, ma dai, eh, cosa dirvi, eh, questa è stata la reazione, la reazione dei miei genitori, e, vi ripeto, se mi chiedete, i due genitori hanno accettato il fatto che tu vivi negli Stati Uniti, sei sposata con un americano, possiamo chiedere a loro, nuovamente adesso, all'inizio non tanto, adesso nemmeno, cioè, nel senso, sì, sono felici, ma allo stesso tempo, sperano sempre che io torni a vivere in Italia, perché ripeto, cioè, io sono la femminuccia, sono la femmina di casa, e, e quindi ci sta che vogliono, mi vogliono più vicina, ecco, magari già anche avvicinarsi un pochino, perché gli Stati Uniti, raga, è tanto, cioè, gli Stati Uniti proprio dall'altra parte del mondo, che poi adesso, desti tempi, cioè, raga, New York, Roma, eh, quante so, sette ore di volo, otto ore di volo, alla fine non è manco una cosa esagerata, era più complicato quando vivevamo a Seattle, dall'altra parte, nella West, e quelli già parlavamo, di undici, dodici ore di volo, con nove ore di fuso orario, queste sono, no, sei ore, sei ore adesso in Italia, noi siamo sei ore indietro a voi, praticamente, e quindi, magari un pochino più vicini, adesso vediamo, vediamo un po' cosa ci riserverà alla vita, io spero, anche Dylan spera che lascerà i militari, cercherà lavoro in un'azienda, e poi si vedrà, ehm, il da farsi, e niente ragazzi, siamo arrivati, alla fine di questo nono episodio, eh, io spero vi sia piaciuto, eh, se avete qualsiasi richiesta, eh, volete che io parli di un argomento specifico, potete lasciarmi un commento qui sotto, o potete scrivermi su Instagram in privato, mi trovate sempre, come Yaya Rondi, Instagram e TikTok, YouTube, mi trovate come Ilaria Rondinelli, che venga poi di Yaya Rondi, io vi ringrazio, e ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!